Ciao a tutti ragazzi, sono Alien e sono qui per parlarvi di un aggiornamento che è stato pubblicato oggi 28 luglio dire il vero l'aggiornamento è proprio in atto in questo momento mentre sto registrando aggiornamento pubblicato durante la solita manutenzione settimanale che terminerà alle 12 sono giusto 4 note ma si tratta di cambiamenti secondo me vitali, davvero vitali che renderanno i sotterranei qualcosa di molto più gratificante facendo un discorso di ricompense dunque partiamo dalla notizia meno interessante, ovvero è stato messo a posto un bug che permetteva ai giocatori di iniziare delle operazioni in monofase a difficoltà eroica premendo una combinazione di pulsanti, ok ma adesso veniamo alla parte davvero importante le ricompense dalle direttive dei sotterranei forniranno la possibilità di ottenere anche tutti gli altri set dell'update 1.1 e 1.2 in più si ha una possibilità di ricevere loot aggiuntivo quando si completano le operazioni con più di 4 direttive quindi immagino che quel 4 più significhi dai 4 in su bene questo è un cambio veramente ma veramente importante perché fornisce la possibilità di ottenere quei vecchi set che tecnicamente sono ancora i migliori del gioco tattico e sentinella specialmente sentinella se si vuol giocare in zona nera ok si possono ottenere anche in missing in action no ma perché io devo essere per forza costretto a fare quel tipo di attività se voglio quei set darmi una possibilità di ottenere quegli stessi set altrove magari proprio nei sotterrani a me non dispiace ci sono state molte lamentele da parte della community riguardo al fatto che nei sotterrani si otteneva quasi sempre pezzi blind o firecrest quindi non esattamente qualcosa di cui tutti potevano essere felici sono contento che massive abbia aggiunto questa possibilità ci voleva davvero inoltre le ricompense ottenute dalle casse sigillate dei sotterrani includeranno tutti i tipi di armi e tutti i pezzi dei set della 1.3 quindi potrebbe magari venire fuori anche un reclaimer perché no o magari un bel m1a o un mp7 altra arma iper ricercatissima per i pvp che in accoppiato con le m8 e 70 e un set sentinella è praticamente il metagame perfetto per i pvp infine tutti i named npcs quindi i boss essenzialmente che troveremo sempre nei sotterranei avranno un aumento dei loro rate di drop per qualsiasi difficoltà e giocare operazioni multifase fornirà una possibilità ancora maggiore di beccarsi equipaggiamenti di qualità migliore esatto massive ci siamo capiti ben fatto il fattore delle ricompense è molto importante molti giocatori chiedevano a voce molto alta un migliore sistema per ricompensarci dei nostri sforzi e penso che questo sia effettivamente un passo nella giusta direzione sono assai curioso anche per quest'ultimo punto mi si sta forse dicendo che fare un'operazione multifase anche a livello difficile che quindi non richiede la presenza di altri giocatori mi può regalare qualcosa anche a livello non so 240 o 268 per assurdo beh testerò anzi testate anche voi mi raccomando giusto per capire sarebbe davvero interessante se fosse così va bene amici miei questo era un update molto veloce ma intenso per qualità di notizia penso proprio che i giocatori su playstation 4 specialmente potranno godere di questi cambiamenti anche più di quelli su xbox one perché beh perché molti su xbox one hanno già aperto innumerevoli casse sigillate mentre voi giocatori playstation 4 lo potrete fare dal 2 agosto e senza farvi personaggi secondari significa che per ogni cassa aperta avrete la possibilità di cuccarvi più facilmente set nuovi e armi tutte invece che solo blind o firecrest o x45 svd o g36 alla fin fine un'attesa che potenzialmente potrebbe venirvi ripagata in qualche modo no è tutto amici io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e vi saluta love in pisa gente